Si avvicina la doppia trasferta in terra siciliana per la Turris, impegnata domenica alle 14.30 tra lo stadio Massimino di Catania e mercoledì a Renza Barbera nel match di recupero contro il Palermo. I corollini reduciti a tre pareggi di fila si recheranno su solo Etneo per cercare di conquistare il risultato utile in ottica salvezza. Nonostante il quarto posto ex eco con il Catanzaro a quota 16 punti, l'obiettivo infatti resta quello della salvezza. Di fronte però i ragazzi di Franco Fabiano troveranno un Catania che cercherà di bissare la vittoria tenuta in casa mercoledì contro la Vibonese per 2-1. Gli uomini del tecnico Giuseppe Raffaele che sarà assente per squalifica cercheranno a loro volta di scalare la classifica. E' dunque avvisata la squadra di Torre del Greco che alle pendici dell'Etna non può vantare sicuramente su un ruolino positivo. La Turris non ha mai vinto al Massimino sui sei precedenti che ha visto ben quattro vittorie in favore dei rossazzurri e due pareggi. L'ultimo scontro assoluto tra le due compagini risale alla stagione 98-99 e da loro fu 1-1 allo stadio Medico Liguori. L'arbitro dell'incontro sarà Luca Angelucci di Foligno che ha diretto già due volte in passato la Turris negli 0-0 Casalinghi contro Marcianise e Cavese. Novità dall'infermeria, Fabiano dovrebbe contare a tal proposito sul ritorno tra i convocati di San Domenico e Brandi mentre si allungano i tempi per Signorelli. Il problema è il retto femorale dovrebbe tenerlo fuori in vista dei due impegni ravvicinati in Sicilia. Il derby dei due vulcani non sarà dunque un match agevole per i Corallini che ciò nonostante proveranno a sfoderare un'altra prova di forza in trasferta per mantenersi imbattuti lontani dal Liguori.